L'egoismo umano vuol difendersi, difendere il proprio potere, il proprio egoismo. Ma in quel difendersi si allontana dalla fonte di ricchezza. I muri alla fine sono come un suicidio, ti chiudono. È una cosa brutta avere il cuore chiuso. E oggi lo vediamo. Il dramma, il mio fratello pastore oggi ha nominato Parigi, cuore chiusi. Anche il nome di Dio viene usato per chiudere i cuori. Sono parole importanti e piene di verità, quelle di Papa Francesco pronunciate nella visita alla comunità evangelica luterana di Roma. In un dialogo scandito da varie domande, il Pontefice si sofferma su diversi temi. Dall'essere Papa con lo stile di parroco, a servizio degli ammalati, dei sofferenti, dei carcerati, perché in loro c'è la salvezza di Gesù, alle divisioni che spingono a camminare insieme in nome dello stesso battesimo di una fede, di un Signore. Dopo la lettura del Vangelo di Matteo nel discorso alla comunità, Francesco ricorda che nel giorno del giudizio la domanda che verrà posta sarà sui poveri. Tu la tua vita l'hai usata per te o per servire, chiede il Papa, per difenderti dagli altri con i muri o per accoglierli con amore. Infine un pensiero ai tempi brutti delle persecuzioni tra luterani e cattolici e l'invito a perdonarsi reciprocamente per lo scandalo della divisione, a proseguire poi sulla strada del servizio e a invocare il Signore, servo dell'unità, per continuare a camminare insieme in una diversità riconciliata.